Apicoltura Gardin produce miele di assoluta qualità. Apicoltura Gardin, il miele come non l'avete mai provato. Rieccoci puntuali per un nuovo aggiornamento della situazione meteorologica. Osserviamo insieme cosa ci aspetterà nelle prossime ore. Buone notizie. L'alta pressione torna a guadagnare terreno verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo, regalando così una giornata di tempo stabile e soleggiato anche sul nostro territorio. Segnaliamo la presenza di venti deboli a tratti moderati nord-occidentale in pianura, mentre sui fondi valle e zone pedemontane potrebbero presentarsi degli episodi di favonio. Analizziamo quindi la situazione dettagliata che caratterizzerà il territorio vicentino in questa giornata. La settimana si aprirà con una giornata da subito soleggiata grazie ad un cielo sereno con al massimo qualche residuo a nuve di passaggio in quota. Proseguendo nel pomeriggio continueremo a godere di un cielo libero da nuvole su tutti i settori, che comporterà quindi ancora tanto sole e temperature gradevoli. La giornata si concluderà senza nessuna variazione degna di nota. Il cielo, sereno, garantirà infatti un'ottima visibilità e una nottata stellata. L'ultima parola, come sempre sappiamo, vale temperature. Per quanto riguarda le minime non c'è da dire nulla, saranno infatti stazionarie sui valori dei giorni passati, mentre le massime aumenteranno ancora lievemente, mostrandosi pure per oggi al di sopra delle medie del periodo. Parliamo di minime tra i meno 3 e i 4 gradi e massime tra gli 8 e i 15 gradi. Detto ciò, abbiamo concluso. Non mi resta che salutarvi e in attesa del prossimo aggiornamento, buon proseguimento.